Vivi Sezione è una falsa scienza. Hanno provato, hanno sottoposto gli animali al benzene, hanno visto che a loro non provoca il tumore, all'uomo sì. Gli hanno sottoposti all'amianto, agli animali non provoca il tumore, all'uomo sì. Gli hanno sottoposti al fumo e non provocava il tumore agli animali. 30 anni fa in America è partita una grande campagna. Fuma uomo, fuma tranquillo. Tanto il fumo non provoca il tumore e ce lo siamo presi tutti quanti in quel posto. Questa è la dimostrazione che è una falsa scienza, che questi signori usano questi metodi sulla pelle degli animali semplicemente per arricchire i propri conti in banca. E se avessero utilizzato i metodi alternativi che già esistono, le cellule umane, la cultura di cellule umane in vitro, la tossicogenomica, le cellule staminali saremmo arrivati, la scienza medica sarebbe arrivata ai successi a cui è arrivata oggi decine di anni fa. Quindi non solo speculano sulla pelle degli animali, ma speculano anche sulla nostra pelle. Grazie.